Buona giornata, oggi è venerdì santo e la morte del Signore, la morte in croce. Noi vogliamo mettere davanti al Signore anche in questa giornata quelle che sono le nostre croci, quelle che sono le nostre morti, quelle che sono quei momenti bui di disperazione, di non senso, di non significato nelle cose che facciamo, di quella dignità persa, di quella attenzione, quella violenza subita. Ognuno di noi ha i suoi venerdì, ognuno di noi può pregare anche per i venerdì altrui, attraverso il silenzio, attraverso l'intercessione, attraverso l'affidamento. Che questa giornata possa essere una giornata in cui ci fermiamo e come ogni morte nel silenzio ci fa meditare quanto e come è importante la vita, ma quanto e come ha significato nel riconoscere quelle morti e quella morte di Gesù il motivo di vita per quello che è anche la nostra vita. Il Signore ti illumina e ti benedica. Buona giornata.